Vi leggeremo tre poesie, prima in araba e poi in italiano, una che parla del tempo, una della contraddizione e una del silenzio. Sono tratte dalla raccolta specchi dell'assenza. Poi vi leggeremo anche l'occhio. Questa è la città. così il carcere è tempo che i primi giorni registri sui muri, i mesi seguenti nella memoria ma quando gli anni diventano un lungo treno, stanco di fischi, disperato di stazioni tenti qualcosa di diverso, come dimenticare La urido min assamunt siwa cadamin lasse di leile Dal silenzio voglio solo parole che non trovo La urido min assamunti La libertà è patria, il mio paese è esilio, io sono il mio contrario Questa è la mia confessione scritta con il latte di mia madre e suggellata con tutte le mie catene Grazie 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 Grazie